Un brutto incidente si è verificato intorno alle 12 di questa mattina in località Sant'Antuono, all'altezza della zona industriale di Polla, dinanzi ad una piccola area di servizio. Coinvolte tre persone di sacco, due adulti ed un bambino che viaggiavano a bordo della loro BMW in direzione sud sulla SS19. A causare il sinistro dalle prime verifiche effettuate l'uscita improvvisa dalla vecina stazione di servizio di un'altra auto, una Chevrolet Calos, il mezzo guidato da un uomo del posto avrebbe invaso la corsia su cui procedeva la BMW. Per evitare l'impatto il conducente della BMW di grossa cilindrata ha perso il controllo dell'auto che si è accartocciata su se stessa, distruggendo anche un tabellone informativo della stazione di servizio posto sul ciglio della strada. Allertati immediatamente dai passanti sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Polla, i vigili del fuoco, il personale dell'ANAS e un'ambulanza del 118. Ad avere la peggio uno dei due uomini ed il bambino a bordo della BMW. I due originari di Sacco, padre e figlio, rispettivamente di 27 e 5 anni, a quanto pare dai primi accertamenti avrebbero riportato delle ferite non gravi. Padre e figlio sono stati giudicati fuori pericolo dai medici dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Il conducente alla guida della BMW invece è rimasto fortunatamente illeso. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti in virtù dei rilievi effettuati dalle forze dell'ordine. La circolazione è poi tornata regolare senza particolari disagi.